Approvata a Nottefondo in Commissione e Bilancio, la finanziaria con tante sorprese. La prima riguarda la soppressione di riscossione Sicilia, con un emendamento a firma Marco Falcone. Il risparmio dovrebbe essere in media 8 milioni di euro l'anno e la riscossione sarà affidata ad una convenzione con Equitalia. Un atto gravissimo che danneggia i siciliani, ha commentato il presidente di riscossione, Antonio Fiume Freddo. Così in Sicilia diremo addio alla rottomazione delle cartelle. Fra le altre norme approvate, lo scioglimento dell'ARAN, l'agenzia che in Sicilia si occupa della contrattazione nel pubblico impiego. Stop alla fusione tra ANAS e CAS, che avrebbe fatto nascere un nuovo gestore delle autostrae siciliane, che avrebbe potuto introdurre nuovi pedaggi. Tra gli articoli approvati, il presidente Vincenzo Vinciullo ha annunciato 3,3 milioni di debito fuori bilancio, per pagare le indennità retrate ai ex ASU. Via libera ai 700 milioni di euro per il Fondo per i disabili, ma senza aumentare le tasse. Una proposta della Commissione sposata dal Governo. Abbiamo affrontato la discussione sulle norme riguardanti l'assistenza ai disabili inserite in finanziaria, in maniera costruttiva, con la consapevolezza che un argomento tanto delicato non può in alcun modo essere oggetto di scontri politici di alcun genere. Lo dicono il vicepresidente della Commissione bilancio, Nello Di Pasquale, il presidente del gruppo parlamentare PD, Alice Anselmo, e i componenti PD della Commissione, Mario Alloro, Giuseppe Lupo e Giovanni Panepinto. Il voto favorevole della Commissione bilancio, sottolineano, consegna la valutazione dell'Aula, norme di grande impatto sociale, che potranno dare risposte ai bisogni dei disabili gravi siciliani, per troppo tempo dimenticati con un'ipotesi di spesa di oltre 2 miliardi destinati a rendere migliore la vita dei disabili gravissimi e delle rispettive famiglie. Via libera anche all'esenzione ticket per inoccupati e aiuti alle imprese tecnologiche che assumono. Adesso toccherà all'Arts. La finanziaria dovrà necessariamente essere approvata entro il 30 aprile.